Luca Pasquale Paolelli Nella filosofia classica, fino all'idealismo e senza ed esistenza, sono distinte fra loro come due entità. Perciò tu dici a te stesso, datti il limite, non un traguardo, un limite alla negligenza, non un traguardo alla volontà. Buonasera a ognuno dei presenti. Del dubbio di ieri, ad aspettare che domani sia poesia. Nel girotondo, nel dubbio di ieri, sono immobile, oggi alla vita. Scrivo a me stesso, taci, ascolta il canto di uccelli, il concerto del verde e dei suoi tanti colori. Scrivo a me stesso, pigro, datti un limite, non un traguardo, un limite alla negligenza, non un traguardo alla volontà. Bravo. Ci ha regalato, stai, stai, ci ha regalato la sua poesia con tutti i sensi che Dio ci ha dato, persino il tatto coinvolgente, quando, cantando, ma qua non ci dovrebbe essere il virgolettato, accarezza l'aria e la tocca come se stesse toccando i tasti del pianoforte. Quando scrivo lo fa in corsivo e la musica la trasmette dalle mani alla penna, fino a creare un pentagramma di emozioni. Il suo pentagramma questa sera è stata la poesia. Grazie Pasquale.